Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video per il vostro X-Breeze ci andiamo a parlare di un argomento molto scottante ma anche molto richiesto Yannick Sinner e la rottura, il crack con Riccardo Piatti, ex storico, veramente storicissimo suo allenatore da quando praticamente Yannick aveva 13 anni quindi parliamo di 8 anni fa visto che Yannick è giovanissimo l'ha preso sotto la sua ala, bordighiera, dopo che viene dalle montagne, dallo sci, tutto quanto e lo ha praticamente plasmato a campione che oggi vediamo lì in top 10 detto questo io non volevo parlarvene prima perché non avevo tutto il puzzle completo adesso che Yannick ha appena dichiarato chi sarà il suo prossimo allenatore cioè chi è già il prossimo allenatore perché si è già allenato per poi andare settimana prossima al 500 a Dubai mi sembra se andiamo un attimo ad analizzare i veri e propri fatti andando a leggere i vari articoli detto questo vi invito ovviamente a lasciare subito un bel like al video commentate, iscrivetevi e partiamo subito allora Yannick Sinner 13 anni, a 13 anni, tennis dallo sci al tennis, così e dove può andare un ragazzi di 13 anni comunque con un bel talento a giocare a tennis in Italia se non a bordighiera è lì chi incontra Riccardo Piatti, un grandissimo allenatore allenato i più grandi possiamo dire ma anche Djokovic quando si andava ad allenare in Italia è stato sotto l'ala protettrice di questo grandissimo allenatore che però nell'ultimo periodo diciamo che è andato un po' a calare Piatti è stato un grandissimo è riuscito a trovare le difficoltà di Yannick Sinner e a cambiare il suo gioco radicalmente da metà stagione all'altra in pratica lo abbiamo visto tutti come prima del mondiale scusate ragazzi, dell'Olimpiadi Yannick Sinner ha deciso di non partecipare all'Olimpiadi per allenarsi e da lì abbiamo visto un cambio drastico ha cambiato il servizio, ha cambiato molte cose che hanno funzionato alla grandissima perché veramente è passato poi a diventare un top 10 quindi diciamo che Riccardo Piatti ha fatto un grandissimo lavoro su Sinner comunque Yannick ha un grandissimo talento e quindi diciamo che è più facile insegnare ad uno Yannick Sinner invece che a me però senza Piatti comunque la strada di Yannick sarebbe stata molto più turbulenta secondo me quindi Piatti è stato salutato i due non sono andati magari a scontrarsi eccetera ma è stato diciamo un divorzio pacifico tra Yannick Sinner e lo staff di Riccardo Piatti e Riccardo Piatti ed oggi è stato pubblicato il nome del nuovo allenatore di Yannick Sinner che sarà Simone Vagnozzi Simone Vagnozzi io non lo conosco penso che nessuno di voi lo conosca come tennista non come allenatore perché è allenato comunque Cerchinato quando era nella sua miglior forma fisica quando è andato magari anche a giocarsi quella finale a Roland Garros e tutto quanto scusate ragazzi non finale ma semifinale scusate è un po' esagerato semifinale poi è allenato anche Stefano Travaglia comunque in Italia si è fatto abbastanza conoscere comunque Stefano al fianco di Vagnozzi ha raggiunto ottimi risultati ma Cerchinato ha altrettanto ottimi risultati tennista carriera da tennista si è concluso nel 2015 lui ha giocato molti Challenger e Futures quindi è andato veramente poco a giocare magari gli ATP ha simulato qualche punticino ma non è stato poi diciamo questo grandissimo tennista a livello pratico nel 2011 era raggiunto il suo best ranking che era 161esimo comunque tanta roba io non arriverei mai cioè io non arriverei mai al 161esimo del best ranking però detto questo secondo me Yannick ha fatto una scelta giusta non magari scegliendo Vagnozzi ma puoi lasciare qualsiasi altro allenatore ma secondo me la scelta di cambiare dopo un tot di anni è fondamentale molti tennisti la pensano diversamente molti magari hanno sempre lo stesso allenatore per tutta la carriera però avere un punto di vista differente di un altro allenatore tutto quanto farà molto bene secondo me Yannick quindi io spero che grazie a questo giovane coach comunque è del 1983 quindi è veramente molto giovane possa in qualche modo far fare quel saltino di qualità Yannick per poi rimanere fisso in top 10 che è la cosa principale ora Yannick Sinner dovrebbe giocare la settimana prossima al 500 a Dubai che attenzione dovrebbe partecipare anche Nova Djokovic dovrebbe quindi sarà sicuramente un ottimo ATP 500 mi aspetto che Yannick possa subito far vedere una forma di riscatto perché se poi mi perde subito al primo turno fa un po' una brutta figura secondo me anche poi agli occhi di Riccardo se invece magari arriva lì in alto non dico a vincere l'ATP 500 perché comunque è molto complicato ma andare in semifinale o in finale sarebbe un buon riscatto un buon riscatto e penso che Yannick Sinner possa in qualche modo riuscirci detto questo io chiuderei qui quindi Piatti ok ha fatto il suo corso adesso vediamo un attimo Cagnozzi come si comporta però ragazzi parlando allenatori di allenatori chi è che sta in campo è Yannick Sinner quindi secondo me se l'alleno io Yannick Sinner arriva sempre in top 10 non è vero non è vero non è vero comunque un ottimo allenatore deve stare dietro a lui per spingere per spingerlo a migliorarlo nei vari colpi anzi spero magari che a rete possa migliorare Yannick Sinner possa magari accentuare un po' il servizio il dritto lo sappiamo com'è magari qualche scambio con rovescio Piat ha dato la base Pagnozzi vediamo se riuscirà a modellarlo al meglio detto questo un bacione vi ci vediamo nel prossimo video questa sera gioco a Berrettini poi gioco agli Fognini vediamo un attimo di fare qualche qualche videone dai vi tengo aggiornati bella a tutti di fare un'altra